Tutti i giorni, senza accorgercene per decine di volte, commentiamo l'operato di chi sta intorno a noi. Giudichiamo, recensiamo, valutiamo, commentiamo, lo facciamo attraverso i canali della comunicazione scritta sul web, oppure lo facciamo a voce, lo facciamo con un collega, lo facciamo con un collaboratore, in famiglia con un figlio per esempio, oppure lo facciamo quando abbiamo comprato un prodotto o un servizio e commentiamo la soddisfazione o la insoddisfazione che quel prodotto o quel servizio ci ha procurato. Siamo diventati dei giudici. Nel gergo manageriale questa cosa si chiama feedback, offrire un feedback agli altri, dare un feedback agli altri ed è molto importante perché gli altri possono migliorare, perché gli altri possono e possano tenere conto di ciò che abbiamo visto, di ciò che abbiamo vissuto, di ciò che abbiamo percepito. Quindi è importante dare un feedback in modo corretto a chi è intorno a noi. Più o meno, col buon senso, abbiamo imparato tutti che conviene partire da ciò che è positivo, poi andare su ciò che è meno positivo e poi concludere con un invito a migliorare, a fare qualcosa per migliorare. Questo più o meno l'abbiamo capito. Ciò che invece è ancora purtroppo troppo raro è un feedback offerto, un feedback fornito a chi è intorno a noi in modo oggettivo, asettico, non giudicante. Questa è la differenza tra un feedback e un feedback di qualità. Il feedback di qualità è asettico, è oggettivo. Un feedback del tipo mi sei piaciuto, ti ho visto un po' scarico, qui secondo me hai perso concentrazione. È un feedback che poggia su dei giudizi. Quando noi diamo dei giudizi agli altri, gli altri si mettono sulla difensiva. Perché? Perché si sentono diminuiti e hanno la possibilità, visto che si tratta di un giudizio e quindi in qualche modo di qualcosa di soggettivo, hanno la possibilità di mettere in discussione. Ciò che invece rende il nostro feedback pulito, chiaro, costruttivo è l'oggettività. Cosa significa? Significa forzare l'istinto. Se sono un allenatore di una squadra di calcio che non ha funzionato nel primo tempo, quando andiamo negli spogliatori il mio istinto mi porterà a dire ragazzi vi ho visti un po' in calo, ragazzi non mi siete piaciuti. Questo non è un feedback, questo è un giudizio. Diventa un feedback quando io ho i dati, la possibilità, gli strumenti per poter dire ragazzi nel primo tempo avete avuto il controllo della palla per il 39% del tempo. Questo è l'inizio di un feedback perché poggia su dei dati oggettivi. Non sempre è possibile elaborare e dare agli altri un feedback secondo dei dati oggettivi. Quando non li abbiamo cerchiamo almeno di dare una rappresentazione dei fatti il più possibile asettica. Cosa significa? Per esempio il nostro collega si è comportato in un certo modo con il nostro cliente e a noi viene una gran voglia di dirgli sei stato troppo aggressivo con il cliente. Ecco di nuovo questo non è un feedback di qualità. Cominciamo a dare un feedback di qualità quando utilizziamo per rappresentare lo stesso tipo di evento un linguaggio fotografico. Quando il cliente ha detto x tu hai risposto y. A quel punto il cliente ti ha detto x e tu hai ribadito y. Ecco questo è un linguaggio più asettico, meno arbitrario, meno giudicante. Le persone tendono ad ascoltarci e il valore di ciò che abbiamo messo sul piatto aumenta perché non c'è un giudizio, c'è una osservazione il più possibile oggettiva, asettica, non giudicante. Quindi bando ai giudizi, viva i numeri e viva la rappresentazione asettica di ciò che abbiamo visto, vissuto, percepito. Grazie a tutti, buon lavoro! Grazie a tutti!